Salve ragazzi, bentornati su Q2S Server 2, siamo ancora su Rainbow Six Siege e stiamo giocando a caccia di errori difficili, mi dicono, perché realistico non era proprio il caso di farlo No, a me piace, però facciamo difficile perché forse... Oh, disinnesco, che è impossibile, disinnesco, è difficile, tipo No Perché sì, perché arrivano nemici a rotta di collo Io prendo Glaz, visto che nelle altre partite che avete visto in 1v1 ho cambiato tutti i personaggi e ora non mi potete rompere il cazzo, giusto? Giusto, io prendo Ashe, visto che nelle altre partite che avete visto ho preso spesso Ashe Allora, partiamo... Ci sono dei nuovi bellissimi operatori, partiamolo col dire questo Che presto sbloccheremo, si spera, si spera, perché siamo tornati molto aggressivi su Rainbow Six Siege Si dice Siege Si Siege Ok, la partita dura all'inizio circa 8 minuti, quindi sia un perfetto timing per YouTube Doppio colpo, se potete Doppio colpo, se potete Ti copro le spalle Va bene Ce l'hai tu il disinnescatore, ricordati Sì, sì, non ti preoccupare Non mi ricordo assolutamente come si usano Aspetta, mettiamoci qua e cerchiamo di... Di capire dove la bomba Hai capito, bravo, bomba Allora, come si buttava il cazzo fa? Bravo, proprio cerchiamo di capire Bravo, fai entrare il tuo drone Sarebbe entrato comunque Se mi ricordassi il tasto 6, 6, 6 Perché mi ricordavo 5 io? Mi stanno sparando Ma mi stanno sparando da fuori Mi aiuti a non morire per favore Occhio perché stanno sparando Chi cazzo m'ha sparato? Eh c'è una suola delle nevi là Ho lasciato il disinnescatore Dai salvami Ok ti sto salvando tranquillo Ma non si può iniziare così Ti sei fatto sgamare Ma che cazzo dici? Io stavo dietro l'angolo Hanno visto te Ma no perché tu hai fatto casino Ma non ho fatto niente Hanno fatto cose nuove qui Non sappiamo dove sia la bomba Ma non è importante sapere dove è la bomba Questo è riman... È compenetrato Con la testa dietro ai... C'è il coi Come no? È importantissimo Concentrati ce la possiamo fare Abbiamo tutto... Ma cosa? Sto già a metà V C'ho 37, capisci? 37 È tutto sotto controllo Bravo, ripuliamo l'area Brava, passami davanti Proprio a altezza testa tu Procedi verso il piano d'angop Barre dall'usanda nid Questa è la terminologia militare di alto livello Occhio perché hanno detto contatto Non so che significa in gergo tecnico Contatto Vado a vedere qui dentro Cioè vogliono dire che ci vuole tatto Con certe... Eh? Ma perché non c'è gente? Io sento al piano di sopra Che la gente si sta ribellando Andiamo Ma sai che faccio? Glielo tiro su... Attonda quanta gente c'è Ok, ok Occhio Il navigatore professionista Arriva, arriva, arriva Torna giù, torna giù Esplode quello Te lo ricordi, vero? E adesso spara anche Bravo Bravo Te l'ho detto E spara anche adesso Ma io gli ho tirato una roba Non è esplodio Dai, ah Non possiamo iniziare così Ragazzi, scusateci Il mio piano era ottimo No, il tuo piano faceva schifo Hai fatto casino Eh, cioè M'hanno sparato in testa E è iniziato tutto da lì il male Cazzo di colpa C'ho più punti Ma che c'è? È normale No, non voto per riprovare Non la fare, non la fare Rifacciamo, rifacciamo No, no, dai Dai, è bella sta mappa Fai come cazzo vuoi È venuta bene Il giocatore Smook Shadow È stato bandito da Battle Eye Capisci? Ti bandano Perché hai fatto il cattivo Ecco perché non gioco online Se io avessi giocato online Avessi fatto quello che ho fatto in questa partita No, probabilmente usavi cheat Oh, caccia di terroristi classica Difficile Oh, adesso mi piace Oh Ragazzi, per il vostro divertimento Prenderò Capitao 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 Seguireste Seguireste Solo block Perché è l'unico Seguireste gente brava in effetti Doppio colpo se possiamo Nelle avversità Nelle avversità è meglio non tirarsi indietro Dice Capitao Prima di grattarsi il pacco E sputare per terra Io ho la mia balestra Tu che cos'hai, Angelo Io devo già ricaricare Io sono caduto rovinosamente al suolo Perché il Capitao È esperto nell'arte della guerra Ma c'è un equilibrio che Uè Sì, ma mi raccomando Non dirmi quello che stai facendo Testa di minchia Ma stai dietro di me Lo vedi benissimo Sì, ma dimmi che Qual è la tua intenzione Non ti leggo ancora nel pensiero L'intenzione è fare irruzione qua dentro Grazie per avermelo detto Dopo aver fatto irruzione E possibilmente Sparare alla testa Qui c'è gente Perché io ho la balestra pronta Qui c'è gente E mi dimetti davanti Ma non c'è nessuno Quale gente Tipo quello che mi sta sparando Mamma mia Cristina davena in concerto Ma che cazzo è successo? Io non lo so La balestra tattica di Capitao Fa tipo il barbecue Quando Non lo capisce Però in compensa Il fucile non prende niente Occhio Due uomini in fondo al corridoio È un lavoro per Glaz Il cecchino di Dio Vai Sì, ma perché quello mi vede Attraverso il corpo di un nemico? E dai però Non si fa Controllo la sposta di via Via Sta arrivando qualcuno da dietro No, davanti Mi ha fatto esplodere Sto messo malissimo A livello di Di vita Ma proprio male Ci sono delle munizioni in questa stanza Capitao Non mi hai fotto un cazzo Delle munizioni No, invece servono Bisogna fare il rifornimento Ecco qui Io intanto Utilizzo la mia balestra tattica Ma perché mi ha messo il tasto? Ah e vai Terroverica A che serve Chi? Occhio Arriva un altro Occhio Ci tirano le granate E' che stanno arrivando da dietro C'era un respiratore E' andato E' andato E' morto Io sento gente da questa parte E' questa musica inquietante Roberto Mi fa cacare il fucile del Capitao E' meglio la pasta Bravo Ecco giù la porta Oh ma mi puoi aspettare Fa tutto lui E beh sto cercando di sfoltire un po' Si fai tutto da solo però Lo capisci Poi muori Ti ho detto Da questo esco al 100% Che cazzo Madonna mi sono cacato addosso Facciamo cacare sotto Dal 1903 Metal detector Oh qua dietro vuol darsi che c'è qualcuno Facciamogli una manovra a tenaglia Io sto scendendo giù in strada Per poi risalire dalla finestra qua sopra Dalla quale entrerò Coadiuvato dalla tua Linea di fuoco Spero di essere stato chiaro questa volta Sulle mie intenzioni No io sto facendo Sto mettendo una C4 Tutta la tattica che ho appena fatto Non è servita a nulla Questo è morto o C'è uno qua che non ho capito Se sia morto o stia guardando a terra Ma chi? Occhio sento gente Ha perso le lenti a contatto Questo ha qualche problema Comunque Ci sono ancora 14 nemici Amiche 1 e 2 Porca troia E' un lavoro per me il cecchino E' il nostro momento E' sentita Oh cazzo Dove sei? Bella Oh non era morto Merda 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 Non ci vedo 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 niente Però l'ho ucciso L'avevo ucciso prima Quindi Ok si è morto Io pensavo di essere tipo In fin di vita Ma l'ho tolto solo 5 Sto avendo un culo Sento gente da destra Io guarda Sono veramente contento Che ci sia una sagoma Intorno alla tua figura Perché se no Senti che suoni Che fa la pistola Del Capitao Mortarete Sempre meglio Dei suoni di Gunner Strike Gunner Strike Ehi c'è gente di qua Dove? Subito a sinistra Ah si? Capitao Questo è un lavoro Per la tua balestra È un lavoro Per la tua Arriva 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 Bella Le messature Che cosa? La Claymore Sì sì Quindi abbiamo tutte e due Le Claymore Ottimo Ci sono Oh che cazzo Mi sono cagato addosso Sei molto bravo in questa partita Posso dirtelo Eh però mi sono cagato addosso E chi guarderà il gameplay Saprà anche perché esattamente C'è un Un Giovanni Mazzafogli Un Giovanni Mazzafogli Eccolo No Dio mio Mi hai salvato Ma hanno deputenziato Glaz Lo sai? Davvero? Non uccide più come prima Non mi dici che sei morto Non mi dici che sei morto Che è successo? Niente Sto a 19 Mi sono cagato addosso Eh io sto a 9 da inizio partita Quindi Mi sa che stanno Gente qui dietro Dai su Porca droga No 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 Non morirmi Mi ritiro dietro il muro Per deliberare Io sto rallentando l'emorragia Eh rallenta perché ci metto tempo No non fai con calma Una manina Ti stavo per uccidere Però Meno male il fuoco amico qui Occhio Ce ne sta minimo un'altra Ok Occhio appena entriamo Ci stanno Pure le granate Non le vedo Eh non so dove sta Però lo sento Eh porca troia Dietro di te Donna Sei morto? Eh Sì sì sei morto Sette nemici Questa me la rascio Dai Dai che ce la puoi fare Io credo Nelle tue capacità tecniche Mamma mia Ma dove sono gli altri però Dai piano Sopra Fa finire che ce n'erano Un paio Dici? Oh risalvo Prendi te la con calma Hai sei minuti Sei minuti ma loro sono sette Devo ucciderne uno al minuto Sto cercando di essere i tuoi occhi E le tue orecchie aggiuntive ma Mi farebbero piacere Tutto è giù Tutto è giù Dai manca giù Credo nella porta sinistra Infatti E se sta a caga qualcuno Eh Stava nel cielo Sì Sinergo è concentratissimo Non voglio disturbarlo Mancano sei nemici Mamma mia Grande Mamma mia Numerone Occhio a destra Sento una sinistra sopra Bella Numero Numero per sinergo Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Uomo partita Grande sinergo Devo ricaricare Non si sa perché Capitao sia così sterto Perché non t'ha visto nessuno Degli ultimi cinque Ma proprio niente Il Capitao Grande Capitao Glazzi invece Secondo me È stato depotenziato A bestia Probabilmente Perché mi ricordo Vabbè O hanno O hanno un attimino Pompato I respiratori Perché vanno I respiratori Adesso hanno una I Prima erano kamikaze Adesso invece Cercano di capire Cosa fare Va bene Bella partita Ci vediamo alla prossima Yeah